il maestro corrado augas così la siediti qua corrado massimo bramellini siediti qui e egli che preoccupato di dover parlare bene io ringrazio tantissimo tutti voi che siete qui e mi chiedo veramente scusa a quelli che non hanno potuto entrare ci sono ancora dei posti per favore fate entrare tutti quelli che potete siamo qui perché purtroppo noi pensavamo di farlo all'aperto ma abbiamo chiesto a un mitico colonnello dell'aeronautica che ci ha garantito che pioveva in realtà non piove ma ormai era troppo tardi forse pioverà quando gioca il toro dice massimo è bene sì è veramente un classico noi appunto siamo qui a inaugurare oggi l'ottava rassegna di torino spiritualità con un con un dialogo con un dialogo con un dialogo sulla sapienza del sorriso ecco c'è una sapienza del sorriso beh la nostra risposta ovviamente è sì certamente sorridere è una disciplina di vita una postura conquistata con fatica e almeno per noi riassume all'interno di questo di questa parola alcuni valori senso della misura senso della giustizia perché sorridere non è ridere o irridere ma comprendere e prevedere dentro di sé l'altro e la sua dignità sorridere infatti un senso della nostra appartenenza a un destino che non è mai individuale ma che insieme agli altri e per gli altri perché sorridere anche accogliere l'altro e poi ancora sorridere trova nasconde dentro di sé una parola che come giustamente ricordava oggi massimo gramellini nel suo buongiorno che ci ha dedicato e di questo veramente lo ringraziamo io gli ho scritto che era il più bel regalo che potesse farmi veramente lo ringrazio di cuore si coniuga con una parola che rappresenta una delle grandi eredità che italo calvino ci ha lasciato parola che richiama quella meravigliosa attitudine dell'intelligenza del racconto parola che la leggerezza che è capace di farsi scordare il peso del mondo e delle nostre vite ed è quindi proprio per da questa parola la leggerezza che voglio cominciare a presentarvi i nostri ospiti di oggi un trio che a prima vista uno dice ma proprio ma che ma che diavolo gli è venuto in mente a questi qua non sapevano proprio più gli stessi invitati si sono molto meravigliati ma hanno detto ma vabbè veniamo sulla fiducia e in realtà questo trio è accomunato da almeno per noi a uno sguardo più profondo ma loro possono dissentire almeno da un aspetto comune del sorriso hanno fatto non so se pratica esistenziale ma certamente anche soprattutto pratica professionale io brevemente vi presento i nostri ospiti Corrado Augas noi lo conosciamo tutti scrittore giornalista conduttore televisivo perennemente eh impegnato nel porgere temi difficili complicati noiosissimi con una grazia con una leggerezza e la bellezza di una battuta che fa sì che noi lo ascoltiamo sempre molto volentieri e soprattutto talvolta capiamo qualcosa Massimo Gramellini e noi noi torinesi ehm lo leggiamo tutti i giorni i suoi buongiorno sono sempre condotti eh in punta di penna con una appunto una leggerezza dove anche il graffio eh non sembra tale il graffio c'è ma non è fatto veramente con molta eh eh attenzione ma la cosa che ancora più colpisce eh voglio dire che una battuta che ho sentito ieri la voglio dire al pubblico che quest'anno il mercato dell'editoria è stato salvato da due autori non so se questo ti gratifica però noi lo diciamo le 50 sbavature di Grigio ah già perché c'è le 50 sbavature di Gigio non far finta di non saperlo l'hai letto a memoria quel libro quindi è che fingi di non sapere il titolo no 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 diciamo la verità li ho letti tutti e tre ecco qui non ti ricordi neanche il titolo beh beh perché ti pare che io stia attenta al titolo in quella lettura no e mi rendo conto che il titolo era l'aspetto meno interessante ma mi sono anche informata sulle 50 sbavature di Gigio che è appunto no è come dire la parodia sai che c'è ogni quando un libro ha molto successo solitamente fanno quindi come hanno fatto setola per dire così hanno fatto le 50 sbavature comunque il mercato dell'editoria è stato salvato da il libro di Massimo perché ha venduto 50 sfumature di Gramellini 50 sfumature di Gramellini ha venduto 700.000 coppie e credo che già solo la copertina sia il simbolo del modo in cui Massimo ha affrontato un tema tra l'altro personale che lo toccava da vicino beh questo bambino con un palloncino rosso è il segno di appunto della lievità con cui ha saputo raccontare farci entrare con estrema intimità in qualcosa che sicuramente ha segnato la sua vita e poi Elio io devo dire che non spero che questa biografia sia esatta innanzitutto sono stupefatta dal sapere che sei laureato in ingegneria elettronica per una che è sempre stata rimandata al liceo di matematica le persone, gli ingegneri per me rappresentano il massimo della vita quindi quando ho letto questo ho detto veramente sono cantante, compositore, polistrumentista leader della band Elio e le storie tese fondata nel 1980 a Milano ecco, dell'ironia e dello sberlef tu hai fatto cifra artistica, stilistica ma appunto mentre preparavamo Trido Spiritualità abbiamo avuto proprio la sensazione che tu ti sei occupato appunto di temi molto quotidiani prendendoci in giro, prendendoti in giro ma sempre senza mai cadere, se possiamo usare il termine, in una statira volgare confermo ecco, perfetto allora, passo subito la parola ai miei preziosissimi ospiti per non portare via altro tempo e vorrei proprio da loro sapere se si riconoscono in questa presentazione e in questo destino comune in cui noi li abbiamo buttati e come questa dicotomia lieve, pesante abbia operato nella loro vita e nella loro pratica professionale io vorrei cominciare al nostro maestro Corrado Auges grazie, buonasera grazie grazie pro parte di questa partecipazione grazie ad Antonella Parigi per avermi invitato e un grazie esteso anche a parte me al lavoro che fa perché prima il sindaco diceva giustamente della vivacità che del resto è tradizione culturale di questa città ecco, di questa vivacità e il circolo dei lettori Antonella sono parte importante e dunque è un lavoro che va riconosciuto per quello che significa anche nella declinazione di oggi Torino Spiritualità avendo invitato sul palco tre persone che i problemi con la spiritualità se li vedono con se stessi a casa loro ma sul piano pubblico sono se interpreto bene le cose tre persone a loro modo ognuno a suo modo disincantate allora mi attacco a una cosa che ha detto prima Antonella e cioè quando ha distinto il sorriso dal riso questa distinzione è molto importante è molto importante soprattutto in Italia perché noi in Italia abbiamo una notevole tradizione di riso che addirittura rimonta all'antichità classica con Plauto si rideva a crepapelle e si rideva delle stesse cose di cui si ride oggi la cacca le corna i froci quelle cose lì le cose di cui si ride nei film di serie non so oggi si rideva anche di questo si rideva anche con una metrica complicatissima che io non ho mai capito al liceo si rideva anche nelle commedie di Plauto il sorriso è un'altra cosa il sorriso è quello di chi anche nei momenti drammatici per esempio quello che stiamo vivendo scopre una dimensione delle cose che merita un'increspatura del labbro una una sottolineatura che il sorriso può anche essere un sorriso di pietà di compatimento di simpatia umana al di là di quello che certi personaggi o certe azioni possono suscitare di ripugnanza ecco questo è importante mantenere questa capacità noi l'attribuiamo in genere agli inglesi non lo humor britannico che ci è non ci è familiare invece averlo evocato qui all'apertura di un convegno dedicato che si intitola alla spiritualità secondo me è non solo importante è proprio giusto Massimo io intanto buonasera mi aggancio a quello che diceva Corrado ho raccontato stamattina proprio questo mio dibattere fra riso e sorriso magari a chi non ha letto racconto la mia figura meschina da ragazzo quando cercavo di fare colpo sulle donne raccontando l'unica barzelletta che conoscevo e che riuscivo a ricordarmi che era una barzelletta assolutamente british che ora ripeterò non diventerai mai presidente del Consiglio no questo lo so ma da alcuni anni e da parecchi anni che lo so e la barzelletta era questa sono queste tre persone tre inglesi in un club che giocano a carte e improvvisamente da fuori si sente il rombo di un motore passano cinque minuti di assoluto silenzio e uno dei tre giocatori dice per me era una Jaguar trascorrono altri cinque minuti di assoluto silenzio e il secondo giocatore mormora no secondo me era una Ferrari altri cinque minuti e il terzo giocatore butta le carte sul tavolo si alte e dice me ne vado queste discussioni mi innervosiscono ecco voi ridete ma allora non rideva nessuno perché come dice giustamente Corrado io da ragazzo lui ha citato Plauto il mondo si divide già al liceo fra chi legge Plauto e chi legge Terenzio che invece è il commediografo latino più raffinato ai cui spettacoli i teatri erano sempre vuoti mentre per quelli di Plauto c'era la coda fuori quindi la scelta del sorriso in Italia è una scelta impopolare d'altronde noi abbiamo una straordinaria tradizione di commedia dell'arte di maschere quando voi pensate a qualcuno che vi fa ridere pensate a due nomi Totò e Alberto Sordi che sono però straordinari ma sono i simboli di una certa Italia quando Moretti lancia la famosa invettiva voi me lo meritate Alberto Sordi è l'invettiva di un umorista nei confronti del fatto che non riesce a far ridere come i comici perché i comici arrivano alla pancia il sorriso invece parte dalla testa nei casi migliori riesce ad arrivare fino al cuore non sempre ma quando il sorriso dalla testa arriva al cuore allora secondo me hai veramente conquistato la terapia del sorriso di cui oggi noi avremmo davvero molto bisogno noi oggi tendiamo giustamente a indignarci ad arrabbiarci ma purtroppo ve lo dice uno che spesso anche nel lavoro utilizza l'arma dell'indignazione è un'arma molto popolare molto facile molto utile per scaricare i nervi ma assolutamente sterile perché l'indignazione non produce niente oggi viviamo nell'epoca di internet dove milioni di persone scaricano la loro rabbia mandando dei messaggini di due righe pieni di insulti ma tutto finisce lì la loro partecipazione alla comunità al vivere si riduce in quel messaggio invece l'affrontare la vita come diceva bene prima con Radaugias con il sorriso significa intanto avere una difesa perché il sorriso l'autoironia l'ironia e l'autoironia sono uno straordinario scudo per deviare i colpi della vita aiuta moltissimo a prendere la vita sul serio ma a non prendersi mai troppo sul serio e poi io trovo che il sorriso sia davvero la condizione naturale del nostro spirito io stamattina allo scritto si dibatte tantissimo su cosa rappresenta il sorriso della Gioconda ora molti studiosi sostengono e io mi sento col cuore di dare ragione a loro che il fatto che Leonardo abbia voluto tenere questo quadro sempre con sé l'abbia fatto piccolo per portarselo dietro in tutti i suoi viaggi e sia stato così come un tablet oggi voglia dire che lui aveva un rapporto particolare perché? perché si dice quel quadro non rappresenta altro che l'anima di Leonardo cioè Leonardo ha voluto disegnare l'anima cioè la sua parte femminile quel sorriso non è altro che il sorriso dell'anima di un uomo e quindi io davvero da quando ho sentito ho letto questa cosa e l'ho sentita profondamente come mia oltre a ridere molto di tutte le scoperte che vengono fatte che dicono abbiamo trovato la tomba di Mona Lisa eccetera Mona Lisa è Leonardo è Leonardo è ognuno di noi quindi quel sorriso indecifrabile ma irresistibile tanto è vero diventato un'icona mondiale non è altro che il sorriso della nostra anima quando ci arrabbiamo dovremmo ricordarcelo e cercare di assomigliare a quel sorriso grazie e tocca a te tocca a me io non mi non mi aggancio a niente nel senso che io diciamo non sono in grado di intrattenere un pubblico io canto bene ma non è che parli poi tanto bene quindi quando mi hanno invitato qui effettivamente mi sono chiesto ma perché mai e dopo se me l'ho chiesto mi sono detto beh vabbè comunque a me Augas piace Gramellini piace un posto sul palco è il posto migliore in assoluto da cui ascoltarli io tra l'altro vi invito chi chi lo può fare mi accade da insomma un po' di tempo per esempio mi hanno invitato alla Scala a fare il direttore finto di un di un grande gruppo ho detto va bene vengo così lì sento infatti ho sentito molto bene e mi hanno dato anche i soldi invece riguardo al tema di questo incontro io penso di essere veramente breve cioè nella mia vita non avrei potuto fare altro perché io mi sono accorto fin da piccolo che anche involontariamente ho sempre fatto ridere tutti per cui quando poi sono arrivato ai vent'anni ho detto ma io che mi ero già iscritto al Politecnico Ingegneria ma tanto per fare una roba non è che fossi appassionato dei calcoli o tanto meno di meccanica razionale una cosa tremenda verso i vent'anni ho detto ma io che so fare tanto bene questo perché non provo a farlo proprio e quindi mi sono buttato nell'avventura nel grande sogno del libro storietese che poi ha preso quota insomma ed è arrivato fino all'appunto di darmi l'opportunità di stare sul palcoscenico con Gramellini e Augens cosa devo dire d'altro no ecco voglio aggiungere una cosa qua finalmente ho l'occasione di dirlo cioè io penso che il sorriso e il riso siano importanti cioè siano fondamentali penso che chi fa ridere gli altri sia un benefattore dell'umanità quando io vedo uno che mi fa ridere tanto lo vorrei ringraziare dargli dei baci insomma perché mi ha fatto stare bene mi ha dato gioia e io stesso forse insomma esagero però mi sento di essere quello cioè di essere uno che ha fatto tanto bene agli altri in vent'anni anche perché mi sono arrivate lettere che mi ringraziano insomma siamo anche andati sul letto degli ammalati gravi che erano in coma per tentare di farli risvegliare e si sono risvegliati questo è bello in due casi è pazzesco questo quindi sono contentissimo di essere stato invitato in un posto in cui si dice che ridere è una grande cosa anche perché e qui chiudo non faccio come il sindaco che ha detto due parole poi è andato avanti un'ora anche perché gente come noi soprattutto in Italia noi di Elio e la storia tese siccome facciamo dei pezzi che fanno ridere fanno sorridere insomma siamo sempre visti un po' come degli artisti di serie B da una parte di pubblico anche da una parte di critica io penso che sia un errore grave oltre a offendermi questo ma penso che sia anche un grave errore che accade solo qua in Italia perché in America o nei posti seri insomma uno come Zappa non si sogna nessuno di dire che è un clown o che è uno scarso Zappa Frank Zappa è uno che fa ridere tanto cioè se uno legge i suoi testi fanno veramente ridere eppure viene visto e viene letto anzi come uno dei più grandi artisti contemporanei no sai posso dire una postilla ha ragione Elio a dire che in genere i comici sono considerati in una possibile classifica degli attori meno importanti dei tragici errore errorissimo perché far piangere è relativamente facile far ridere o sorridere è difficilissimo questa è la verità quindi chi si riesce veramente a far sorridere o ridere in senso alto ha molto più valore proprio dal punto di vista recitativo di uno che riesce a far piangere forse su questo anche tu puoi dire qualcosa nel senso che devo dire che se ti può consolare anche nel nostro ambiente c'è lo stesso problema cioè se tu sei un umorista o comunque negli articoli nei corsivi utilizzi l'ironia all'interno del mondo cosiddetto intellettuale scali di un gradino in basso perché comunque qui in Italia il trombonismo che è un po' la cultura ufficiale da secoli fa sì che si confonda la profondità con la seriosità cioè spesso quello che si dà molte aree dice magari una solenne banalità ma la dice con l'aria tronfia e convinta è una persona seria e profonda invece se tu dici magari una verità incredibile ma la dici con leggerezza pensate a Calvino ma io penso a Ennio Flaiano cioè un paese che ha avuto Ennio Flaiano Flaiano dovrebbe essere ogni giorno dovrebbe essere studiato a scuola Flaiano e invece dice Massimo è uno che faceva ridere ma l'arte dell'epigramma è una cosa straordinaria avete idea di quanta profondità ci voglia per scrivere a tutti io penso a Marchesi per citarne alcuni Corrado mi conoscerà si ricorderà tanti altri ma personaggi straordinari lo stesso Longanesi che comunque faceva la fronda durante il fascismo e scriveva sbagliandosi in pera che all'epoca ovviamente era una frase da galera quasi perché era una presa in giro di Mussolini in pieno regime fatta da uno che ha sempre fatto la fronda però la genialità di riassumere in una frase ironica una cosa profonda ecco in Italia c'è questo pregiudizio verso chi fa sorridere molto di meno verso chi fa sganasciare non con le parole ma con le situazioni o con i gesti perché noi siamo comunque il paese delle maschere per cui molto spesso se voi fate caso personaggi che vi fanno molto ridere se poi andate a leggere il testo di quello che hanno detto non vi farà più ridere mentre invece e non lo dico perché è qua lui ma per esempio è di una storia tese mi è successo più di una volta di trovarmi quando loro cominciavano e che compravo i primi cd all'epoca si compravano ancora i dischi di mettermi a ridere nei negozi leggendo i testi delle loro canzoni senza ancora averle neanche ascoltate perché ancora non avevo messo il disco nel piatto quindi l'uso della parola per far ridere è una cosa che in Italia è ancora purtroppo di elite ma da stasera naturalmente non più sapete che amo il lieto fine ma te ne ricordi uno di testo da dirci ma no nel senso che mi vengono in mente quando poi canto e adesso se me lo chiedi così io ricordo una delle mie prime risate fu per un personaggio che credo fosse un vostro compagno di classe che in una canzone chiamavate Ascella Purificata perché doveva essere uno che nelle feste infantanfava e Ascella Purificata mi ricordo che mi strappò una risata tanti anni fa una canzone no mi è accaduto di andare una volta vabbè adesso non so se hai interessi però per confermare quello che hai appena detto anzi per dargli più forza ancora c'era un attore non mi ricordo perché insomma che leggeva il testo cioè il compito lì era leggere testi di canzoni però noi leggevamo il testo di un pezzo di Paola e Chiara mettiamo e poi c'era un attore di questo mi ricordo il nome che mi verrà in mente dopo che ha letto il testo della terra dei cacchi che mi ha fatto ridere è pazzesco perché io della terra dei cacchi c'ho le balle pieni ormai l'ho fatta 8.000 volte però sentirla letta mi ha fatto più ridere ancora di cantarla e non lo dico perché sono io qui senti Corrado ridere sorridere ridere deridere irridere insomma il confine è sottile pure profondo e tu che l'abbia visto che sei il nostro maestro provi a tracciarcelo la domanda è pericolosa come perché hai ragione ridere irridere deridere qui azzardo una cosa che può suscitare dissenso salutarmente e cioè si parla in questi giorni delle vignette per esempio che sono state pubblicate ripubblicate in Francia da una rivista satirica che si chiama Charlie Hebdo che sono vignette insultanti nei confronti dei musulmani che i musulmani ritengono insultanti nei confronti della loro religione allora è corsa la domanda e questo riguarda tutti noi ma credo in particolare il vice direttore della stampa è corsa la domanda ma questo limita la libertà di stampa il fatto che vengano prese delle precauzioni per cui i testi che i musulmani possono ritenere non vengono pubblicati o vengono con certe cautele è una domanda fondamentale allora io credo ma la lancio lì al vostro giurizio di aver trovato una possibile risposta che certo non ci può essere nessuna limitazione al sorriso e neanche al riso ma forse si può pensare a una limitazione di garbo alla derisione è una cosa che mi sono inventato da solo è la prima volta che la dico ero un pensierino di quando vado in motorino da un posto all'altro allora però la rimbalzo su Massimo cioè si può pensare che la derisione abbia non dico la censura ma insomma un ritegno di pudore da parte di chi io penso che quando comunichi devi pensare sempre che stai comunicando a qualcuno e quindi non tutti hanno lo stesso livello di sensibilità cioè ad esempio è evidente che nel campo religioso probabilmente ci sono sensibilità diverse che attengono anche a fasi storiche diverse penso che qualche secolo fa un cattolico avrebbe reagito in maniera molto più violenta a una derisione della religione cattolica di quanto non possa fare oggi perché c'è comunque stata un'evoluzione intellettuale che porta a guardare con distacco e anche con tolleranza a chi dice delle cose orribili detto questo io sono d'accordo personalmente cerco sempre di evitare l'insulto gratuito insomma per parlare di un personaggio Berlusconi in questi anni penso di non avergli risparmiato nulla ma psiconano non mi piace perché mi sembra facile mi sembra un'irrisione sull'aspetto fisico lo trovo davvero come non mi ha mai fatto ridere la gobba di Andreotti cioè giocare ad esempio sui difetti fisici o su altre cose di questo genere lo trovo facile e di cattivo gusto in questo senso l'irrisione la capisco il sarcasmo lo capisco non sono armi che uso però il sarcasmo ne capisco la ragione spesso l'utilità la derisione e invece mi urta mi urta la mia sensibilità perché immagino che sarei urtato anch'io se venissi deriso in questo modo quindi secondo me ogni fenomeno di comunicazione dovrebbe sempre ricordarsi che c'è un confine che è quello del rispetto il politicamente corretto l'ha trasformato spesso in una cosa anche grottesca è un po' ipocrita però io credo che ci sia invece un'utilità nel ricordarsi sempre che quando parli di qualcuno e con qualcuno devi ricordarti che parli di un essere umano anche se è il peggiore essere umano del mondo devi avere un rispetto minimo di umanità nei confronti di tutti quindi io penso sulla vicenda delle vignette io ritengo che se esiste un miliardo e più di persone nel mondo che ha comunque una visione di un certo tipo e la prende con molta serietà non è disposta neanche ad accettare da parte degli altri che si possa ridere delle loro convinzioni ritengo che sia giusto argomentare discutere polemizzare con tutti ma in quel caso deridere un simbolo religioso io lo trovo devo dire la verità a me da fastidio anche se deridono un simbolo religioso cattolico ebreo non capisco perché sono dei campi dove entrano in gioco delle cose talmente intime talmente profonde che mi sembra davvero ripeto facile la scelta della derisione è innanzitutto da scartare per chi fa comunicazione perché è troppo semplice dobbiamo siamo pagati per fare di meglio credo Eglia qual è il tuo confine? insomma non è facile io sono contentissimo di essere qui oggi perché si parla di temi che all'interno di Eglia sono attualissimi insomma cioè chi cerca di far ridere gli altri è come quello che cammina sul filo è troppo facile fare errori non far ridere è un è un grandissimo rischio però è anche bello il rischio quando poi ottieni quello che cerchi io andando avanti con gli anni perché ne ho già un po' mi sono accorto che in realtà le cose sono molto più semplici cioè o mi piace o non mi piace io su questo genere di umorismo sono assolutamente d'accordo con lui cioè non mi fa ridere se non mi fa ridere perché farlo cioè solo per togliersi la soddisfazione di dire l'ho fatto anche se voi vi arrabbiate boh non so non mi non mi non mi entusiasma se se invece scopro che c'è qualcuno che mi fa ridere allora mi batterò per fare in modo che lui possa fare leggere le sue cose ecco il limite in ogni caso credo che non debba esserci cioè io sono mi non so come dire mi mi sento di dire che da sempre ho pensato che non debbano esserci limiti e penso che anche che in Italia non so a noi non si erano mai stati posti questo io lo devo dire con tutto il male che si può dire tutti quelli che ci hanno amministrato prima di oggi qua stiamo stiamo bene sotto l'aspetto diciamo della della censura almeno nel caso credo che in Russia avreste fatto la fine in Russia facevamo la fine assolutamente con molto meno fegato perché quella lì che hanno arrestato ha detto poi delle cose in un'intervista che i ragazzi non so come abbia fatto io sarei andato da Putin a chiedergli liberami beh cerchiamo di arrivare molti in questi giorni appunto nelle interviste ci hanno detto ma come mai in un momento storico così difficile del nostro paese delle società occidentali avete scelto proprio questo tema del sorriso perché in poi il nostro lavoro è quello di portare dei temi dentro Torino spiritualità che certamente siano vicino a quello che noi facciamo ma che abbiano poi la capacità di parlarci nella nostra vita nella nostra esistenza nel momento proprio che stiamo vivendo e quindi noi pensiamo che in questo momento il sorriso abbia qualcosa da insegnarci però la risposta non vorremmo darla noi per voi quindi chiedo a Massimo ma proprio in questo momento storico il sorriso può insegnarci qualcosa? Il sorriso è fondamentale penso che senza il sorriso in questo momento tenderemmo tutti a essere ancora più depressi di quello che siamo Ma può essere anche un momento di ripartenza cioè per esempio insegnarci darci un orizzonte Mi riesce difficile parlare di questi argomenti perché in questi giorni ho letto un po' per dovere un po' per un macabro piacere le pagine sui traffici della regione Lazio ed è davvero cioè lì non riesci proprio più a noto ecco che rispetto a un anno o due anni fa è proprio vero che la ripetizione ossessiva di un determinato cliché ti fa passare la voglia di reagire due anni fa ridevo molto di queste cose adesso non riesco più neanche a riderne perché a me Fiorito non fa ridere sinceramente mi fanno piangere soprattutto quegli italiani che lo hanno votato devo dire più di tutti perché poi ci lamentiamo dei politici ma ci dimentichiamo che e quelli non erano eletti con una lista telecomandata insomma questo è un sindaco ecco quindi quel genere di risata lì credo che ecco di risata di voglia di semplicemente di indignarci e di ridere per dire che tutto uno schifo non serve più oggi è evidente che comincia un'epoca di ricostruzione dobbiamo ricostruire più di quello che è stato distrutto credo che sia difficile fare per cui bisogna ripartire bisogna ricominciare da questo punto di vista il sorriso può essere molto utile io in questo periodo mi diverto molto a mi incuriosisco molto a parlare con le persone che erano vive dopo la sfida della seconda guerra mondiale perché in qualche modo penso che l'epoca che stiamo cominciando potrebbe assomigliare a quella e quindi lì erano le macerie erano macerie fisiche vere qui sono macerie morali innanzitutto e un po' anche materiali la grande differenza qual è? che allora non c'era più niente e si trattava di riconquistare tutto qui invece siamo ancora in una fase in cui stiamo cercando di difendere quello che è rimasto è una situazione per certi versi anche peggiore perché è molto più facile dal punto di vista emotivo cercare di raggiungere degli obiettivi che non hai che invece lavorare in difesa per difendere quello che ti rimane però a maggior ragione secondo me la capacità di sorridere della vita in questo momento è l'unica salvezza per non impazzire perché adesso siamo qui e ne sorridiamo ma l'Italia sta attraversando davvero le famiglie italiane stanno sopportando il peso di questa crisi se in Spagna e in Grecia ci sono le piazze ancora oggi piene di rivoltosi e in Italia no è perché in Italia funziona lo stato sociale alternativo che è quello delle famiglie perché i nonni con i risparmi che volevano lasciare i genitori stanno mantenendo i nipoti questa è in sintesi è quello che sta succedendo una sintesi economica di una riga di quello che succede in Italia in questo momento sui giornali ne parliamo probabilmente poco parliamo di spread di altre cose ma la sostanza è questa in questo momento il più grande regalo che si può fare anche alla nuova generazione è proprio quello di sorridere di imparare ad affrontare la vita con questa disposizione d'animo perché altrimenti il pensiero cupo il pensiero arrabbiato il pensiero disperato purtroppo come dicevo prima non produce nulla noi oggi abbiamo bisogno di uscire dalla sterilità del mugugno del continuamente rimpiangere qualcosa che non c'è più quello che non c'è più non c'è più è un'altra epoca è cominciato un altro mondo diverso non possiamo più guardare con nostalgia a quello che c'era perché tanto non c'è più e soprattutto non tornerà più cioè i lavori dove prima si erano mille persone assunte e adesso ce ne sono cinquecento non è che fra dieci anni ce ne saranno di nuovo mille ce ne saranno duecento quindi bisogna pensare a creare nuovi lavori ci siamo di nuovo in una fase in cui bisogna cambiare il mondo possibilmente anche se molto difficile cambiarlo in meglio rendendolo un po' più giusto un po' più giusto perché abbiamo raggiunto dei livelli di disparità a livello economico e non solo economico e culturale che a me sono quello che davvero oggi preoccupa mi preoccupa il fatto che questo dibattito che stiamo facendo richiede per essere anche compreso un bagaglio culturale che noi tutti abbiamo siamo riusciti a costruirci nel corso della vita ma mi chiedo quanti fra dieci vent'anni lo avranno ancora ieri permettimi una digressione ma che mi ha un po' ghiacciato ero su un ascensore con quattro tifosi del toro che mi fanno domani sera gioca Sansone io faccio speriamo che giochino anche i filistei non ha riso nessuno dal che ho capito che non sapevano chi erano i filistei e però non è bello un mondo dove non sai più io ricordo una battuta mi è mai successo di ridere in un cinema da soli è una delle sensazioni di più a me è successo in un film di Woody Allen dove lui corteggiava una donna copiando le lettere d'amore di Joyce e a un certo punto quando poi si lasciano lui dice lei fa sì la cosa che ricordo di te che scrivevi delle meravigliose lettere d'amore lui fa guarda che non erano mie erano di Joyce pausa avrebbe dovuto insospettirti quel continuo riferimento al clima di Dublino io l'ho trovata una battuta straordinaria e nessuno rideva dal che ho capito che nessuno sapeva forse non sapevano cos'era Dublino ma probabilmente neanche chi era Joyce allora pensate a quante occasioni di sorriso ci perdiamo se non abbiamo un minimo bagaglio culturale su cui puoi far giocare l'ironia quindi sono queste le cose di cui oggi mi preoccupo ma l'unico modo di preoccuparsene è occuparsene e farlo con un sorriso tra l'altro il riferimento alle lettere di Joyce mi è interessato perché lui ha scritto delle lettere ardite ecco diciamo così aveva un rapporto poi si vede anche nel suo romanzo ma nel nel l'Ulisse ma insomma nelle lettere la signora Joyce partecipava a esperienze 50 sfumature anche 100 no avete fatto bene avete fatto bene a etichettare questa cosa con questa edizione col sorriso avete fatto bene perché va in controtendenza rispetto a tutto quello a cui ci spingono gli avvenimenti talmente gravi da diventare o di disperazione o grotteschi perché poi a Roma tutto tende a colorarsi di una sfumatura diciamo così alla carbonara alla vaccinara quella festa quella festa è un concentrato non c'è i fratelli Vanzina non avrebbero mai osato pensare a una sceneggiatura di quel genere ma state esagerando che cosa volete mettere e rappresentare con questa porconata no invece ci sono quelli che si mascherano da maiali e delle signorine semivestite che accettano di farsi frugare diciamo dai maiali delle cose inaudite allora che vogliamo fare vogliamo ridere sorridere di questo o ci vogliamo disperare io credo che bisogna fare tutte e due le cose bisogna sorridere perché ha ragione Massimo questa è povera gente famelica questi sono della povera gente famelica prima abbiamo Massimo ricordato Totò e Alberto Sordi io vado ancora più indietro io ricordo le maschere tradizionali della nostra commedia dell'arte ricordo Pulcinella il quale Pulcinella con la sua palandrana bianca la maschera nera in volto eccetera il quale acciuffa una manciata di spaghetti e l'ingozza così il famelico Pulcinella scena non a caso ripresa da Totò in miseria e nobiltà che gli spaghetti se li mette addirittura in tasca vi ricordate quella scena grandiosa di comicità ecco allora da una parte c'è questa spinta verso il riso e dall'altra parte però ci deve essere permettetemi di dirlo una spinta alla ribellione perché non è possibile che la governatrice la presidente del Lazio ci venga a dire questa gente l'ho mandata sto andando troppo in là non è possibile io non tollero che dica questa gente l'ho mandata a casa io questa gente l'ha mandata a casa una rivolta è politicamente scorretto tanto lei non la so scusa è un piccolo titolo di merito quella gente l'ha mandata a casa l'abbiamo mandata a casa noi cioè tutti quelli che hanno partecipato a questo modo di indignazione che è arrivato è arrivato e si è capito che era irresistibile fine io in realtà ti volevo spingere a dirmi anche una battuta non era una censura no 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 io direi volevi spingere sì volevo spingere invece a parlare di quello che a me sembra poi un po' quello che sta dietro anche ad alcuni fenomeni cioè quello di la perdita chiamiamolo cinismo di una perdita insomma condiviso del nostro tempo no quindi mi sembra che questa assenza di avere un riferimento di riferimenti valoriali sia quello che come dire e quindi di questo riso sguaiato sia un po' l'antitesi no di quello di cui noi oggi parliamo che è il sorriso comunque non volevo assolutamente guarda stai sollevando una cosa che quante ore abbiamo perché no questo è un tema importantissimo hai sfiorato un tema importantissimo tra l'altro ricordo che c'è stata sulle colonne del Corriere della Sera una polemica proprio su questo tra due costituzionalisti Aenis e Unida proprio su questo colpa degli uomini o colpa della mancanza ormai dei riferimenti perduti ecco però ci fermiamo qua se no cambiamo cambiamo etichetta all'edizione di spiritualità Elia tu cosa devo dire no cosa io ho ascoltato con molto interesse quello che hanno detto perché dicono sempre delle cose interessanti no una tua intervento sul tema del cinismo 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 a me piace essere cinico confesso questo cioè mi piace molto mi fa ridere essere cinico e mi piacciono i cinici diciamo quelli che ridono cioè mi piace lo humor inglese di cui tutti parlano però non so quanti poi abbiano visto i Montipython per fare un esempio molto diciamo significativo ecco a me piace quel tipo di umorismo lì che non si pone limiti e che è molto cinico e che è quello che mi fa più ridere insomma in assoluto ed è quello che non piace molto in Italia piace una piccola fetta di pubblico che ride molto ma è piccola e su questo genere di temi è chiaro che anch'io mi indigno però poi se mi indigno non rido più mi incazzo e basta allora mi piace molto cercare gli aspetti nascosti quelli che non vengono visti perché alla fine se uno cerca c'è sempre qualcosa che fa ridere ci sono storie anche nei fatti più drammatici il riso e il pianto credo che vadano sempre insieme posso chiederti una cosa da tecnico ma secondo te Grillo che nasce comico perché nella sua azione di indignato non usa più il sorriso che pure era un'arma che un tempo sapevo usare si ogni tanto fa delle battute che fanno ancora ridere però secondo me si è anche un po' rotto le scatole lui di far ridere si è rotto le scatole di far ridere si sente? si penso è una mia idea che non si basa su nessuna su nessun su nessun fatto su nessuna frase che mi abbia detto ecco credo io non lo so cioè c'è pieno di comici che a un certo punto della loro vita si sentono sminuiti nel fare il comico tipo non so Banfi che all'improvviso si mette a fare l'attore serio non mi ha mai fatto tanto ridere neanche prima però comunque era comico invece adesso fa quello serio impegnato padre pio tutte quelle robe lì insomma Gasman fece il contrario Gasman da attore drammatico di scuola ottocentesca è diventato un attore comico strepidoso scoperto da municelli nel caso di Grillo può essere che ci sia stato l'effetto Banfi che abbia pensato di posso dire una cosa prego no voglio dire sono in minoranza perché tutte e due avete declinato avete detto in maniera diversa la stessa cosa cioè che l'indignazione serve a poco io non ci credo io credo che anzi vado fuori tema perché qui il sorriso lo lasciamo un momento e percorriamo un sentiero opposto complementare complementare al sorriso io credo che l'indignazione serva e che una delle ragioni di una nostra fiacchezza collettiva è 60 milioni è la nostra perduta capacità del nostro esserci a sue fatti gradatamente alla discesa verso una roba che non ha fondo adesso se questi episodi di questi giorni servono a farci recuperare a una capacità di indignazione ecco allora lì forse come dicevi tu prima in un altro contesto si può sperare che dino una ripartenza forse ti sei applausi 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 vabbè io vorrei vi riporto per censura su dei termi più più vicini ovviamente vorrei parlare con te Massimo del termine dissacrare nel senso che e del fatto che si dica che il riso è un'attività dissacrata dissacrante cioè come se appunto il sorridere il ridere fosse la negazione del sacro e proprio ieri così magari poi annunciamo un lavoro che il prossimo anno faremo tu mi hai detto non è così perché nei Vangeli apocrifi ti lascia andare avanti abbiamo Corrado che è una fonte diciamo più autorevole di me sì no nei Vangeli apocrifi Gesù è ironico nel Vangelo di Tommaso quando Tommaso gli chiede ma il Regno dei Cieli esiste nei Cieli lui risponde questo ridendo dice guarda se il Regno dei Cieli fosse nei Cieli gli uccelli sarebbero in vantaggio su di te che comunque è una battuta ma è una battuta molto profonda perché dice il Regno dei Cieli si trova dentro di te cioè Dio è dentro di te non lo devi cercare nei Cieli devi cercare dentro di te e probabilmente questi elementi sono stati un po' persi diciamo che c'è un po' la tendenza quando e credo che questa tendenza fosse già presente allora quando si riproducono le vite di straordinarie figure a smussare chissà perché o forse per la ragione di cui dicevamo prima gli aspetti ironici gli aspetti più così più leggeri credo di non svelare nulla di straordinario ma qualche tempo fa la mamma del nostro direttore la mamma di Mario Calabresi mi raccontava ad esempio che era rimasta molto stupita ma l'ha detto anche il figlio in un'intervista su Corriere della Sera che nel film dedicato a Piazza Fontana non fossero stati messi nel personaggio del marito tutti quegli elementi obiettivamente comici perché lui era un personaggio simpatico che faceva l'imitazione dei colleghi invece dovendo raccontare un eroe lo hanno raccontato in maniera così di dascalica l'eroe non ride mai è serio invece no gli eroi e a maggior ragione i santi o le figure straordinarie i mistici sono personaggi che hanno anche degli elementi di umorismo e di la vita proprio perché conoscono il potere della leggerezza hanno diciamo così la capacità di sorridere ecco difficilmente sghignazzano difficilmente sghignazzano ma sanno sorridere di se stessi e della vita quindi io credo che il sorriso è assolutamente qualcosa di spirituale d'altronde il Buddha non viene sempre descritto il famoso sorriso del Buddha quindi non mi pare che ci sia una discrasia un elemento di negatività tra l'essere spirituali e il sorridere proprio perché la spiritualità e l'approfondire i temi dello spirito ti porta anche ad avere una condiscendenza che io volevo dire ancora questo a parte che sono d'accordo con Conrado poi nei discorsi uno finisce per prendere delle pieghe non è che l'indignazione non serve quando è collettiva riesce a smuovere le cose come è successo recentemente ma io credo che un elemento questo se vuoi anche molto italiano è che nel nostro modo di sorridere in fondo c'è anche sempre un po' di buonarietà perché in fondo in tutti i bersagli della satira noi vediamo anche un pezzo di noi stessi io cito sempre la famosa battuta di Gaber ma verissima non mi preoccupa Berlusconi in sé mi preoccupa Berlusconi in me cioè nel senso che la satira è proprio quel modo di raccontando un personaggio e tirandone fuori gli aspetti più grotteschi in fondo fai anche sempre un po' di autosatira perché in qualunque personaggio c'è un pezzo di te in questo senso quindi c'è un elemento secondo me anche nella persona più dissacrante c'è un elemento profondo di umanità ecco io credo che il vero confine fra ciò che mi fa ridere e ciò che non mi fa ridere o che mi infastidisce è la presenza di qualcosa di umano nell'umanità che viene fuori dalla capacità di fare satire silenzio assoluto sì mi piace poi hai scritto tantissimi libri su gli argomenti certo mi sono dunque guarda taglio un po' la grossa perché se no il discorso diventa il cattolicesimo e l'islam non va tu hai la tua domanda è la se la dissacrazione il sorriso dissacrante si concilia e toglie il sacro e dunque ho giocato sul termine nel senso comunque in queste due religioni sì c'è qualche mistico che sorrideva insomma gli apocrifi a ragione Massimo hanno qualche non è che abbondino no ma la vera la vera il vero monoteismo che sa ridere di sé e anche della sua sacralità è l'ebraismo è l'ebraismo su questo non c'è è quello prima citavi Woody Allen quante volte Woody Allen prende in giro il rabbinato per esempio mascherandosi gli stesso da rabbino per fare delle cose posso raccontare una barzelletta senza pretesa di diventare Presidente del Consiglio per carità ma per esempio una delle 200 barzellette perché poi sorridere di se stessi è il massimo esempio l'autoironia è pericolosissima ma è anche il massimo esempio di capacità di apertura al sorriso il cattolico dice il mio Dio è il più potente di tutti una volta stavo su un aereo stavo su un aereo l'aereo stava per precipitare e allora mi sono rivolto al mio Dio l'ho pregato improvvisamente si è creata come una grande luce e il pilota è stato capace di riprendere i comandi del velivolo e siamo arrivati su un aeroporto di fortuna il musulmano dice io una volta che l'aeroplano noi stavamo in mezzo a una tempesta furibonda scogli da tutte le parti squali che ci aspettavano con le fauci spalancate ho pregato Allah e il suo profeta si è creata come una gran luce le onde si sono placate eccetera e l'ebreo dice no io ho un episodio che una volta era sabato non potevo fare nulla e passeggiavo sul lungomare vedo un portafoglio per terra e allora non potevo prenderlo perché era sabato e allora mi sono rivolto a a io ho va e improvvisamente si è creata una grande luce e tutto intorno era sabato e lì era mercoledì ecco e questo per dire no per dire la capacità di 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 fatti giustamente il dio della bibbia che viene considerato severo cattivo ma è anche un dio spiritosissimo cioè non è spiritosissimo è molto severo e anche crudele però ha delle battute ha delle uscite che francamente fanno ridere e così i film di Woody Allen sì voglio dirle che ha fatto ridere quindi non può fare il premier perché sì però scusa dovrei portarti ancora un attimo vorrei portarti ancora un attimo su questo su questo tema al parte il ridere però il sorridere nel suo grande elemento di accoglienza ecco è un aspetto no anche per esempio tu prima mi hai citato San Francesco no sì insomma è un aspetto appunto della benevolenza dell'accogliere l'altro quindi insomma brava hai toccato un tasto difficile perché San Francesco viene in genere Francesco d'Assisi insomma per dirlo così al secolo viene in genere raccontato o come una pastorelleria etulcorata con gli uccellini il lupo che si ammanzisce eccetera oppure come un personaggio tragico in realtà lui è un gigante che a mio giudizio ingiustamente è stato fatto patrono d'Italia perché gli italiani assomigliano pochissimo a Francesco d'Assisi lui era un uomo intransigente era un uomo che aveva un obiettivo nella vita e finché è stato vivo l'ha raggiunto poi è morto lui è successo tutto un disastro ma l'ha raggiunto ma era un uomo che era capace nella sua povertà estrema nutrito come capitava dormendo dove capitava è stato anche capace di battute di spirito per esempio era un po' goloso nella estrema povertà nella quale è vissuto era un po' goloso gli piacevano i dolcetti perfino in punto di morte quando c'è una piada era amico delle donne aveva a parte Chiara con la quale ha avuto anch'essa patrona con la quale ha avuto un rapporto religioso spirituale e umano straordinario e aveva molte amiche donne a una di loro che da Roma si è mossa per andare sapendo che lui era vicino a morire 44 anni si è mossa e gli dice portami la cera la cera per i ceri per le candele e portami anche quei dolcetti che fanno a Roma ecco per dire quindi aveva questi aspetti di umanità cordiale che me lo rendono vi devo dire la verità insomma una persona molto vicina ecco tu vuoi sul termine dissacrare ti senti ah si mi sento forte sono forte dissacrare credo che sia un obbligo diciamo per chi fa quello che faccio io io ammetto di probabilmente aver preso troppo sul serio anche il mio compito che però trovo sia anche utile io l'ho detto prima perché lo penso proprio poi sono in un posto in cui si parla proprio di questo per cui devo dirlo per cui è anche un bel un bel gioco buttare giù dal trono chi pensa di esserci a pieno titolo insomma e devo anche dire che tutte le volte che ho che ho incontrato invece dei dei veri grandi o quantomeno quelli che io penso che siano grandi non ho mai incontrato della gente per così dire sacra cioè che si sente tale e quindi è doppiamente bello prendere in giro quelli che invece si sentono sacri o che si sentono grandi e non lo so insomma dunque continueremo continuerò bene prima di passare diciamo all'ultima parte di questo trialogo io vorrei dire solo che Torino Spiritualità e il circolo dei lettori io vedo in ogni sala molte di queste persone per cui ci tengo molto a ringraziarle è fatta certamente col supporto degli enti locali che abbiamo già ringraziato ma anche con il supporto di sponsor privati che sono veramente particolarmente utili e graditi in questo tempo quindi ci tengo a farlo personalmente perché sono Erselco Debo l'acqua lauretana e poi anche da questa associazione che noi come circolo dei lettori abbiamo a cui abbiamo dato vita che è l'associazione dei 100% lettori per Torino che è un'associazione appunto di privati che in qualche modo hanno deciso di sostenerci e quindi siccome appunto oggi per fare queste cose il rapporto col pubblico e col privato è sempre più importante io ci tengo a sottolinearlo e ringraziarli sinceramente ecco per credo che possiate ringraziarli anche voi perché effettivamente credo soprattutto visto come le nostre andamenti finanziari saranno sempre più degli interlocutori importanti come lo sarete sempre di più voi ecco io per concludere questa cosa vorrei però parlare avere una vostra battuta finale su poi veramente io dico sempre appunto che sorridere è una postura di vita cioè è una ed è anche in fondo un allenamento di vita nel senso che non è un qualcosa che c'è è qualcosa che in qualche modo ricerchi coltivi è frutto di un percorso allora mi piacerebbe visto che noi diciamo sempre che Trino Spiritualità cerca di essere una manifestazione in cui uno si porta qualcosa a casa delle informazioni ma anche qualcosa per la propria vita da spendere proprio nella propria vita quotidiana mi piacerebbe sapere da voi qual è il vostro allenamento qual è il vostro percorso quali libri ho letto per imparare a sorridere io da ragazzo leggevo tantissimo gli scrittori appunto gli umoristi inglesi leggevo Woodhouse per esempio che è un umorista che non ha nessun contenuto ma è pure delizia della prosa della sua scrittura George Orwell ha scritto pagine memorabili in difesa di quest'uomo totalmente scombiccherato che a un certo punto finì in Belgio e ha una radio controllata dai nazisti fece anche dell'ironia sui campi di concentramento che è una cosa terribile ma lui era talmente fuori dal mondo e dallo spazio che lo fece in Inghilterra credo anche giustamente in quel momento misero a bando tutte le sue opere però per dire Woodhouse è un esercizio è un esercizio costante leggere aiuta molto a imparare a sorridere e soprattutto a guardare la vita sempre un po' in diagonale sempre un po' in obliquo ad esempio io ho imparato negli anni io nasco molto timido quando ero ragazzo non avevo il coraggio mai di fare domande quando venivo in eventi di questo genere quando dicevano c'è qualcuno del pubblico che vuole chiedere qualcosa io facevo sempre fare bella figura a un mio amico disinibito a cui scrivevo le domande lui poi le leggeva la voce alta però io non mi osavo a parlare ho cominciato ad avere il coraggio di parlare immaginandomi sempre che il pubblico davanti a me fosse in mutande in mutande so che poi è una cosa che allora quella cosa mi aiutava perché pensavo che in fondo dico vabbè sono in mutande quindi io sono libero cioè portare a guardare la vita sempre in un modo un po' obliquo un po' diverso rispetto a come credo che sia poi il segreto dell'umorismo e in generale proprio di un certo tipo di approccio alla vita che aiuta diciamoci la verità aiuta a soffrire un po' di meno perché una delle funzioni fondamentali direi quasi medicamentose dell'ironia e dell'umorismo è aiutarci appunto a fare da scudo a tutti i dolori della vita pensate cosa sarebbe la vostra vita se non ci fosse davvero il sorriso se non ci fosse mai una lettura che vi increspa le labbra o una canzone che vi porta per 5 minuti da un'altra parte vi fa fare una risata o un film sono delle vere e proprie medicine dell'anima e quindi teniamocene strette hai detto postura di vita verso l'ironia e il sorriso io sì io sono portato intendiamoci è una medicina dell'anima Massimo Gramellini ma siccome tu prima hai citato una cosa giustissima che è la differenza da profondità e seriosità ti ricordi allora questo è un paese dove è più facile essere seriosi che profondi è più no voglio dire più facile più redditizio in tutte le collettività nel tuo giornale nel mio intorno alla RAI uno vede delle persone che valgono quanto un altro che però essendo molto seri prendendosi molto sul serio vengono presi laddove l'ironico o l'autoironico viene considerato un povero scemo è possibile e qui torna anche quello che diceva prima Elio a proposito dell'attore comico eccetera ciò nonostante io nonostante i rischi che comporta io credo come Massimo Gramellini che essere disposti a sorridere aiuti a vivere meglio e a invecchiare meglio io ho dei colleghi io ho dei colleghi non faccio i nomi naturalmente farò dopo solo i cognomi ho dei colleghi i quali li vedo macerati dal risentimento che invecchiano rosi rosi da rodere ecco quelli mi fanno un senso di tenerezza e siccome è la battuta conclusiva vi voglio ricordare prima Massimo ricordava citava Flaiano vi voglio ricordare tre battute fulminanti di Flaiano il quale giocava l'ironia sul rovesciamento che è uno degli effetti più noti del comico il comico è un inciampo c'è un ragionamento a un certo punto tac prende una deviazione imprevista e scoppia il comico per esempio tre battute di Flaiano così si chiude in allegria una esce parliamo degli indiani parecchi anni fa ma insomma esce un nuovo film di un regista molto considerato molto serio molto noioso allora dicono Ennio è uscito sta uscendo il film è un altro film di regista tale e quale non vedo l'ora di perdermelo per esempio oppure era un uomo indeciso a tutto oppure ancora in Italia e questo ci colpisce tutti la linea più breve tra due punti è l'arabesco sono una meraviglia Flaiano questo è geniale a me viene in mente visto che siamo attivando spiritualità lui diceva un uomo con i piedi saldamente ancorati alle nuvole e io trovo una definizione meravigliosa del sognatore che fa e hanno detto già tutto loro insomma no beh sull'opportunità di ridere anche in tempi di crisi penso che valga per qualunque crisi cioè non solo per questa crisi ma anche per le proprie crisi mi ha aiutato molto quando sono stato male tanti anni fa adesso non sto a dirvi delle cose ma però effettivamente dato che sono arrivato come vi ho detto prima al punto di scegliere le cose semplici che poi sono le più efficaci e quello che mi son detto è perché no cioè perché non ridere non c'è proprio niente da perdere e quindi invito tutti a farlo ecco e a ascoltare i dischi e dire le storie tese che fanno ridere sono suonati bene bene io credo che siamo arrivati alla conclusione io vi ringrazio tantissimo di essere venuti vi chiedo ancora scusa per quanti sono appunto dovuti rimanere fuori alle 21 ci sarà un incontro sempre che continua un po' questa nostra chiacchierata tra Vito Mancuso e Alessandro Berconzoni e naturalmente vi invito e non mi avete invitato non dico Mancuso Berconzoni scintille anche se Mancuso ha pubblicato dall'editore Fazzi di cui è consulente direttore di Collana ha pubblicato un libro sul cristianesimo che in principio era la gioia anzi se tu stasera la ricordaglielo come mai ha tirato fuori un libro dove dice il cristianesimo che in genere era presentato in maniera più diciamo mesta in principio era la gioia dove stava sta gioia vedrà che ecco bene io vi ringrazio tutti tantissimo grazie ai nostri ospiti comprate i dischi di Elio era uno scherzo grazie a tutti grazie grazie a tutti